Troviamo la squadra che in questo momento è risaputo, non è che me lo invento, troviamo una macchina costruita e allenata in maniera perfetta. Ha vinto in molti campi importanti, ha vinto in casa sempre, ha sempre fatto tanti gol. E' un impegno per noi molto difficile, molto duro, molto pesante, oltretutto secondo me in un momento anche con il discorso della Coppa Italia che ci ha disturbato parecchio ancora con questa trasferta, sinceramente. E ne abbiamo pagato conseguenze anche con qualche mezza magagna dal punto di vista fisico. Quindi dobbiamo fare la nostra corsa, dobbiamo vedere cosa possiamo recuperare, dobbiamo vedere cosa possiamo fare, però dobbiamo fare anche insieme, almeno da parte mia, i complimenti come è giusto fare a una società, a un staff tecnico che ha costruito quella squadra che in questo momento sta facendo veramente delle cose strabilianti. Esiste anche da parte nostra una partita di calcio domani dove ci misureremo contro una squadra che in questo momento qui è perfetta. E domani ci può stare tutto il contrario di tutto, perché noi vorremmo fare anche noi una partita di calcio, come ha fatto sempre la regina, perché ha onorato sempre il gioco del calcio. Quindi deve essere una partita dove noi tutti, i sostenitori, hanno l'orgoglio e anche il pensiero e anche, perché no, un sogno di riuscire a creare dei problemi nella prima classifica. Diciamo che il gol è stato rocambolesco a Bari, però è anche vero che chi ha visto la partita bene ha visto che c'è stato un crescendo da parte del termo e sinceramente è coronato anche da una virgolina di fortuna, però è stato un crescendo, cioè bisogna essere onesti. Con la terna è stata una partita di due pugili, secondo me, senza guardia, cioè che si sono andati di cazzotti in faccia, forti, potevano vincere tutte e due. E quindi è questo che mi ha fatto piacere molto nel vedere le ultime prestazioni che ha fatto la squadra. E contiamo di fare anche domani una prestazione comunque ricca di voglia, di energia, di spirito di sacrificio, che è quello che dovremmo fare contro questa squadra molto forte. Cristini male. Cristini domani mattina vedremo se riusciremo a portarlo almeno tra i considerati nella gara. Mungo sta bene, anche se ha questo piccolo indolenzimento ancora. Abbiamo Cianci che anche lui è uscito dalla Coppa Italia con qualche problema. E quindi più che altro, più che la partita, che a me invece piace allenarsi giocando, ci ha creato qualche problema la trasferta, perché obiettivamente siamo sempre stati in viaggio da Bari successivamente, quindi ci ha tolto molte energie da questo punto di vista. E anche la settimana lavorativa, quando c'è la Coppa Italia, non è mai la stessa. Grazie a tutti.